Le unità navali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Crotone hanno scortato l'imbarcazione verso il porto poco prima del luna di notte. Si tratta del quindicesimo sbarco di migranti nel mese di agosto nel porto crotonese, dove stamattina sono arrivate 252 persone. Erano a bordo di un peschereccio soccorso a poche miglia da capocolonna. Dopo le operazioni di sbarco coordinate dalla Prefettura e gestite sul posto dall'ufficio immigrazione della questura di Crotone, i volontari della Croce Rossa hanno provveduto a rifocillare le persone più provate dal viaggio. A bordo del peschereccio c'erano in gran parte uomini provenienti da Pakistan e da Afghanistan. Tra loro dieci minori, non accompagnati, tre donne. I profughi sono stati trasferiti, come sempre, al centro d'accoglienza di Isola Caporizzuto. Il corpo di un anziano è stato rinvenuto carbonizzato nella notte tra sabato e domenica nella sua auto alla mesia terme. Il cadavere dell'uomo era all'interno di una Daevumatis in via Giuseppe Conte, contrada a Richetti, periferia est della città della Piana. A fa scartare l'allarme, una telefonata è giunta intorno alle 4 della mattina al comando dei vigili del fuoco di la mesia terme. Arrivati sul posto, i pompieri hanno trovato l'auto avvolta dalle fiamme con all'interno il corpo della vittima. Un altro presunto pilomane è stato incastrato grazie alla ripresa aerea realizzata da un drone impiegato da quest'estate dalla Regione Calabria per contrastare la piaga degli incendi dolosi. Il velivolo ha immortalato un uomo a scendere da un'auto ed appiccare il fuoco in alcuni punti di un campo nella provincia di Crotone. Il tutto è accaduto nella mattinata dell'altro ieri. La squadra della Regione è riuscita così a bloccare sul nascere l'ennesimo rogo che avrebbe potuto diventare ingovernabile e potuto distruggere ettari ed ettari di natura. E' stato ritrovato sulla strada comunale per San Gregorio di Pona Gabriele Alessandria, il giovane di 21 anni, allontanatosi la notte scorsa dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Bibo Valencia. Dopo la prima segnalazione arrivata al 113 erano subito scattate le ricerche da parte della squadra delle volanti e della squadra mobile del capoluogo, poi intensificata con il supporto anche di un elicottero dell'arma dei carabinieri. Grande preoccupazione a gioiosa ionica per un 25enne che è stato colpito da una giostra in movimento è accaduto durante i festeggiamenti per San Rocco, dove è stato allestito un Duna Park come di consueto. Purtroppo, per motivi ancora in fase di accertamento, il giovane si è trovato nella traiettoria di un vagone della giostra, venendo travolto in pieno. Per il Covid in Calabria nell'ultime 24 ore cala il tasso di positività che si attesta a 22,87%. Nella serata di sabato 27 agosto, durante i festeggiamenti della festa patronale della Madonna di Palermiti e mentre si esibivano in concerto i Mattia Bazar, quattro giovani hanno scatenato una violenta lite, probabilmente per un parcheggio auto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri per le varie ferite alla testa e le contusioni riportate. I ragazzi coinvolti sono stati trasferiti all'ospedale per i controlli.